La classe di una moderna cucina a scavolini sa conquistare la tua casa. Visitando lo spazio espositivo della bottega del mobile, scoprirai di avere solo l'imbarazzo della scelta. E oggi hai un motivo in più per farlo. Su tutte le proposte presenti in showroom, sconti fino al 50%. Goditi il meglio dell'arredo casa. Vivi nuovi tratti, nuove linee, nuovi comfort. Mettiti comodo nell'unico centro divani toimo della tua città. La bottega del mobile, a due passi da Crotone, in via nazionale 128 Scandale. La bottega del mobile. Mobili da sempre.